Ancora processi per maltrattamenti, esauriti messaggi di vicinanza alle donne in occasione dell'8 marzo e spogliati gli alberi di mimose della zona, si torna la quotidianità, che scandita anche di violenze che spesso rimangono sotto traccia. Ed anche quando la vittima trova il coraggio di denunciare, non è raro che nelle ore successive faccia un passo indietro e decida di ritirare il plico presentato alle forze dell'ordine. L'ultimo episodio in ordine di tempo risale all'altro ieri, quando un uomo residente in un paese della cintura biellese era stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della moglie. La denuncia sarebbe arrivata dopo due litigi, nel primo dei quali una spinta aveva fatto cadere la donna che aveva battuto il capo contro un pensile. Dopo l'arresto effettuato dai carabinieri, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Ma questa non era stata la prima denuncia presentata dalla donna, che qualche anno prima aveva accusato l'uomo di averla colpita con un telefonino al capo. Lesione per cui si era fatta anche refertare in pronto soccorso. In quell'occasione aveva dichiarato che le violenze si ripetevano da anni, con regolarità e addirittura un paio di volte alla settimana. Ora, dopo l'ennesima querela, ha deciso nuovamente di rimangiarsi quanto verbalizzato. Questa tipologia di reati, però, ritenuti molto gravi, è perseguibile anche d'ufficio. Quindi la procura procederà.